Disturbo e pericolosità sociale all'interno di un locale. Queste le motivazioni che hanno portato il questore di Padova a sospendere la licenza per 30 giorni di un'attività che si trova in Viale Stazione a Montegrotto Terme. Qualche sera fa nel locale era scoppiata una lite, degenerata anche con lancio di oggetti. Momenti che avrebbero potuto sfociare in una tragedia se non vi fosse stato un rapido intervento delle forze dell'ordine. In seguito all'episodio è emerso che le persone coinvolte hanno tutte precedenti. Inoltre il locale che fa musica cubana comporta vari disagi per i residenti che sentono volumi alti fino a notte tarda e schiamazzi continui.